E' partita sui social network e poi è finita su tutti i quotidiani e su tutti i media la storia di Mariano Scognamiglio, un cuoco, un ristoratore a retino che ci racconta che cosa gli è accaduto. Napoletano di nascita a retino d'adozione, Mariano Scognamiglio ha aperto il suo ristorante nel 2009. I suoi guai, ci racconta, sarebbero iniziati dopo la sua partecipazione a quattro ristoranti in auto format televisivo condotto da Alessandro Borghese. Dopo il bacio con il suo compagno andato in onda nella puntata a retina, i clienti locali sarebbero notevolmente diminuiti. La pandemia e il caro Bollette poi ha fatto il resto e ora rischia di chiudere. Sicuramente dal bacio sono scaturite l'attacco omofobo, lo stalker, gli attacchi sui social. E' vero, non si generalizza perché sarei veramente un pazzo a pensare questo. E sicuramente mio cognato a retino e mia nipote a retino, cioè non penso, non avrei scelto Arezzo per viverci. Cioè sarei stato un autorete allucinante, cioè vado in un posto dove so che mi trovo male. Ma sarei stato un folle, è normale che non penso questo, Greta, non è così. Io c'ho gli screenshot, ho fatto vedere uno che gli dice non sono omofobo, brutto, bip diciamolo, perché la parola sarebbe ben più grave, brutto pederasta. Oppure io non vado nei posti dove sculettano, e io non mi pare che sculetti. Ma questi sono posti pubblici. Oppure quell'altro che mi scrive, ah mi fanno schifo due uomini che si baciano, mi fanno passare l'appetito. Il mood di ingresso è scemato, ma la mia cucina non è cambiata, anzi delle due è migliorata. I miei prezzi sono sui 35 euro a scontrino, quindi voglio dire di media. L'appello per raccogliere fondi è andato deserto, ma Mariano vuole lasciarsi alle spalle questa brutta pagina e chiudere tutto a tarallucci e vino, anzi a stinco e pastiera. Cosa dedichi a chi vorrà scegliere il tuo ristorante per i prossimi giorni? Allora guarda, siccome siamo a Pasqua la pastiera, la pastiera che è un dolce tipico napoletano, che vedo che piace, quindi si gli adichiamo una bella pastiera.